Va ora in onda il pagellone semiserio del Frondi, il podcast ironico di Formula 1 analisi tecnica dedicato al gran premio appena disputato. Austin, la Formula 1 divora se stessa. Cosa c'entra la Formula 1 con Saturno che divora i propri figli? Quest'ultimo è un quadro, anzi è una pittura murale terribile di Goia e fa parte del suo ciclo detto delle pitture nere. Il padre degli dei olimpi che nella mitologia greca divora i figli perché essi non prendano il suo posto. Saturno è anche Crono, il dio del tempo. Mi viene spontaneo pensare che dopo lo spettacolo cui abbiamo assistito a Austin sia la Formula 1 a divorare se stessa. Certo in questo caso non se ne capisce il motivo o forse lo si capisce pure troppo. Macinare sempre più soldi. Il problema però attiene al tempo e alla fisica. Quando una stella gigante esaurisce il suo combustibile collassa, deforma lo spazio-tempo come un gigantesco imbuto che divora tutto ciò che la circonda compresa la luce. Un buco nero. Voglio dire che c'è un punto di non ritorno raggiunto il quale poi tutto implode anche in uno sport. E come mai mi sono lanciato in paragoni così spericolati visto che parliamo di un gran premio? Beh, intanto il tempo temo centri e come. La Formula 1 è il tempio della velocità che tanto amiamo e che non è altro che il tempo accelerato che corre veloce. E poi c'è il resto. Cioè la voracità che ha portato la Formula 1 guidata da domenica lì a fare una cosa che non ha molto senso. Mi spiego meglio. Non usare Austin il fine settimana canonico ma quello di legare sprint. Il problema è che è un circuito molto bello ma nel Circus è fra quelli con più asperità sul manto stradale e tutto ciò ha creato un effetto a catena. I team, stanti le regole attuali, non hanno potuto regolare al meglio le monoposto. Alcuni si sono tenuti il setup che avevano deliberato con il simulatore, altri hanno effettuato qualche correttivo ma subito, venerdì, arriva la mannaia del parco chiuso. Così taluni hanno deciso di utilizzare la minigara scendemente per comprendere meglio le gomme e altri addirittura hanno preferito partire dalla pitlane domenica proprio per poter intervenire sull'assetto delle proprie monoposto che evidentemente erano inguidabili. E se metti mano alle macchine in parco chiuso devi partire dalla pitlane. In definitiva abbiamo assistito a storture incredibili che non solo sviliscono un format che non è mai davvero decollato ma che creano una serie di curiosi effetti collaterali. Ad esempio alcuni team come Ferrari e Mercedes e chissà quanti altri, poi ci arriviamo, hanno bisogno di correre il più possibile schiacciati al fondo stradale perché il loro effetto solo funzioni come sperano, cioè generando più carico possibile. Solo che se corri su un circuito che addossi qua e là grattugi il fondo, soprattutto la parte della tavola in resina introdotta nel 1994 per validi motivi è che per regolamento non può essere consumata più di tanto, se no incorri in una squalifica. E di più, fai 19 giri belli tirati per la gara sprint e anche lì grattugi il fondo prima della gara vera e propria. E così, finita la gara dominicale di un maestoso Hamilton e di un maestro Leclerc controlla campione e i due risultano con il pattino consumato oltre misura. Tre ore di conciliaboli e poi la decisione inevitabile. Erano anni, molti anni, che non accadeva una cosa simile. E sono pronto a scommettere quanto volete che in un fine settimana normale, dove il coprifuoco comincia dopo le qualifiche ordinarie del sabato, avendo a disposizione i canonici tre turni di prove libere, ogni team avrebbe trovato la quadra per evitare problemi di usura del pattino in resina. E così, ovviamente, a note fonda, quando ormai tutti i giornali italiani avevano pubblicato la classifica ritenuta finale, ecco la vera e definitiva, per quanto ci ha dato sapere, classifica finale senza Hamilton e Leclerc. Pensate ad Autosprint, lo storico settimanale è andato in stampa a tempo di record e poi scoprono ore dopo che le cose sono cambiate, ma ormai il giornale sta arrivando in edicola, come ci ha raccontato Mario Donnini su Speed Stop. Tornando a domenicali, uno come lui dovrebbe ben sapere cosa significa gestire un team, una monoposto, cosa è tecnicamente la Formula 1, viva Dio, è stato il team principal della scuderia più importante e blasonata del motorsport. Tuttavia, proprio domenicali, se ne è uscito tempo fa con una frase leggendaria, saturnina e sinistra, le prove libere piacciono solo agli ingegneri. Che lui non le voglia per creare altre cose lo sappiamo, spettacolo, spettacolo a tutti i costi, ma siamo sicuri che lo voglia anche il pubblico? I numeri rispetto al Gran Premio dello scorso anno proprio ad Austin sembrano in controtendenza. Eppure il nostro continua a difendere a spada tratta quel format che in fondo, diciamo, ce lo schifano quasi tutti e stupisce che proprio domenicali se ne faccia a portabandiera. E allora vedete che tutto torna, crono che divorano i suoi figli, le stelle che esplodono e diventano buchi neri e anche la pazienza di tanti appassionati che piano piano si spegne, o forse sono quelli come me che non hanno capito niente. Capita. Voti. Red Bull, Verstappen, voto. E vabbè. Perez, voto. Sanza infamia e sanza lodo. Leclerc, voto 5. Smarrito dal team, smarrito nel team, non capace di decidere di avere visione di gara mentre gli snocciolavano piani A, B, C, D. Un muretto disastrato come quello attuale della rossa non aiuta un pilota dal talento cristallino ma forse fragile in determinate circostanze come Leclerc. Incolpevole per la squalifica, meno per una partenza sbagliata. E così il primato è durato un centeneio di metri e tanti saluti suonatori. Casco verde di Leclerc, voto fra i più brutti che abbia mai visto. Rapporto pole position, vittorie di Leclerc, voto. Sta diventando un incubo. Sainz, voto 6. Solido, freddo. A difenza del compagno sa anche imporsi al muretto. La monoposta è quello che è. E allora massimizza. E i numeri in classifica gli danno ragione, per ora. Oltre al fatto che ha dato, per ora, l'unica gioia a Maranello, cioè alla vittoria di Singapore. Hamilton, voto 8. Gara strepitosa. Al netto della squalifica, se il muretto Mercedes, secondo ormai solo a Ferrari a talvolta pure superiore, nelle strategie sciagurate non avesse fatto il solito pasticcio, il nostro avrebbe potuto vincere e battere il rivale che non sopporta cordialmente ricambiato. McLaren, voto sottotono. Aston Martin, voto gambero verde. Federazione internazionale, voto. E che ve lo sto a dire? Appuntamento alla prossima puntata.